Eccoci tornati nella mia survival insieme al pappagallino, non gli ho mai dato il nome, è il cavallo che non mi ricordo più come si chiamava, l'ho messo qui perché non lo trovavo più, lui era sparito, dopo che è stato per ore e ore e giorni e giorni di lavoro qui non si è mai mosso, ad un certo punto non l'ho più trovato, ho detto no, lo devo riavere, l'ho cercato ed ero lì vicino. A parte questo oggi ci sono parecchi piccoli update e ho aggiornato un sacco di cose come mod, resource pack che sono molto molto carine, mi permettono, che sono queste qui, mi permettono di fare parecchie cose. Ho installato vari data pack in modo tale che io con l'aggiornamento del mondo posso andare pari passo con gli aggiornamenti di minecraft, con le mod invece questa cosa non mi è concessa perché dovrei aspettare che la mod venga aggiornata per poter aggiornare anche il gioco. Quindi ho deciso di fare, di affidarvi un po' di più ai data pack e un po' meno alle mod, a differenza di prima, ho tolto la mappa che non la vedevo molto vanilla, ho tolto lo zaino che non vedevo molto vanilla perché alla fine poi una volta recuperate le shulker mi sembra inutile lo zainetto. Quindi va benissimo il... com'è che si chiamava quello che hanno messo... che ha messo la mojang, il... vabbè la sacca, l'avete capito? Comunque, andrei a dormire prima di tutto. Ci sono stati dei... eh no, degli enormi cambiamenti, qui c'è questa cosa che non mi piace, cambierò. Ho praticamente... ma la porta? Ma? Ma dov'è la porta? Fixiamo instant... La porta? No, è sparita la porta, mi hanno rubato la porta. La sono... portata? Potene via per cortesia. Ed ecco la porta, no? Dall'altro lato, dall'altro lato... così. Yes, questa mi serve. Come vedete anche le varie texture sono diverse, tipo la crafting table. Perché questa resource pack permette di fare delle cose molto carine, che dopo vi farò vedere. Questa è l'entrata, che ho smantellato e sto rifacendo. Non so se vi ricordate dal vecchio video. E qui è un piglin, ok? Questa è la stalla, che devo ancora sistemare, ma non c'era. Poi, 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 poi... ecco qua. Piccoli enormi update. Lì ho cambiato i tetti. Qui ho messo delle decorazioni, molto carine. Lì per spezzare fra tetto e torre. E qui non mi piaceva il contrasto che dava. Quindi l'ho lasciata, praticamente, a degli stessi materiali della torre. Qui ho fatto una casa, una piccola casa, che volevo... All'inizio volevo fare, come avevo detto, il villaggio. Poi, però, ho detto... Ma se invece facessi casa mia, ma un'aggiunta, diciamo. E il villaggio dei villager, potrei anche farlo più in là. Oppure potrei fare, come progetto, prendere un villaggio già esistente e rifarlo da capo. Comunque, qui ho messo qualcosina per decorare. Proprio roba random. Questo è un banco così. Non c'è neanche una crafting. Questo è semplicissima. Tavolo con le sedie. E qui la camera da letto con l'armadio. Nulla di particolare, nulla di troppo particolare. Poi, qui, ho allargato questa zona qui. Questa sarebbe la cucina barra forgia. Dove metterò poi la lava, tutti i banchi da lavoro. Sempre con qualche decorazione per renderla più carina. E che sembri un più una cucina, comunque. Sarebbero le cucine del castello. Qui ci dovrebbe essere una porta. Ed è questo, purtroppo, a causa di un datapack che mi permetteva di aprire le porte insieme. Mojang, siamo nel 2023. Fammi aprire le porte contemporaneamente. Grazie. Purtroppo è rimasto questo bug qua. Ho provato in tutti i modi. Ho creato una nuova istanza. Ho fatto... Ho tolto tutto. Lo avviate in vanilla. Ho fatto l'ottimizzazione del mondo. Non ho potuto risolvere. Quindi, purtroppo, io spero che con gli aggiornamenti questa cosa si fixi da sola. Ma non ho trovato ancora la soluzione. E rimarrà così. Comunque, qui, uscendo, siamo nel cortile. Qui ho messo qualche barile per decorazione. Poi ancora il cortile verrà tutto decorato. La porta ve la faccio vedere. Alla fine è semplicissimo. Delle cose così. Qua entriamo ed è la sala grande, diciamo, la hall. Che forse, forse, qui ci starà una porta che mi permetterà di andare lì al famoso bel vedere che avevo detto nell'altro video. Qui, invece, andando a destra, si va per questa torre che voglio utilizzare come torre degli enchant. E dovrò ancora sistemare e abbellire. Poi non da da nessuna parte perché se spacchiamo siamo nella stalla. Qui, invece, da questa parte dove c'è questo corridoio con tutte queste finestre, ho fatto una scala che mi porta su. E qui mi porta in questa terrazza. Ah, ho cambiato anche shader. E il texture pack mi dà anche il sole tondo. Qui siamo da questa parte. Lì altri aggiornamenti poi dopo dopo. Qui ho creato una casa. Ho detto, io voglio una casa. Qui devo fixare. Ma alla fine ne è uscito solo un tetto. Qui probabilmente farò un muro. Oppure tutta vetrata. Però non ci sta tutta vetrata. Comunque ancora non so come farla. Col tempo poi la sistemerò. Qui è acacia. Legno d'acacia che mi piace tantissimo come pavimento. Qui, invece, è la mia camera da letto. Questo sarebbe il legno di acacia. Che con questa texture pack diventa così. Che in realtà non mi dispiace. Però è molto simile al Dark Hawk. Quindi potevano fare una tonalità diversa. Magari un po' più scuro. Però veniva un arancione più scuro. Comunque. Qui ho messo cose per abbellire. Qua ho fatto le sedie così. Ma sinceramente ci somiglia a una sedia. Cose sempre per abbellire. Una cesta random proprio. Sempre per bellezza. Non sono piene. Non c'è niente. E qui ho fatto questa parte qui. Che sarebbe il mio letto. La mia camera da letto. Che in realtà vorrei forse cambiare. Non sono sicura al 100%. Qui manca un blocco. Ok. E qui è un balcone. Che mi permette di guardare tutto il perimetro del castello. Ora. Andiamo in Spectator. Il tetto era un po' diverso. L'ho cambiato un pochino. Ma alla fine il risultato è sempre quello. Qui ho texturizzato un pochino con gli stone brick andesite e varie cose. È rimasto uguale. Però ho semplicemente cambiato un po' il tetto. Non è cambiato tantissimo. Oggi ho sistemato le finestre. Perché quella specie di balcone fatto con legno non mi piaceva. Qui è il camino della cucina di sotto. Che appunto è qui. Qui non so sinceramente come farlo ancora. E questo è il castello. Come si vede il castello dall'alto. E' molto molto bello. Che cosa è successo? Ma? Questo non doveva essere così. Doveva essere come tutti gli altri. E perché? Forse... Eh, forse quando ho cercato di ottimizzare il mondo per fixare quella roba lì. E mi si è rotta la torre. Meh. Meglio questo che altro. Si, se la sistemerò. Non me ne ero assolutamente accorta. Comunque. Qua c'è un corridoio che unisce qui. Come era rimasto uguale. Qui ovviamente si ferma qui. E sono sempre torri. Qua c'è un blocco messo a caso. Un sacco di errori. Però fixerò poi. Me ne accorgo poi quando vi faccio il video. E vi faccio vedere tutte le cose. Qui ho voluto fare... Ho provato a fare una roba con i pistoni. Ma io con la redstone faccio schifo. Perché non l'ho mai capita. E non sono riuscita a fare magari una leva che mi nascondesse oppure mi aprisse il passaggio. Alla fine ho deciso di fare così. E queste magari poi le cambio. Metto altro tipo di trapdoor. Poi si vedrà. È un passaggio grezzissimo. Perché l'ho fatto ieri sera. È stata una delle ultime idee. Che mi collega a questa grotta qui. Che è la grotta dell'entrata. Di una delle entrate del castello. Ma è davvero carina questa shader. E anche le ranocchiette. E questa è una delle entrate del... Non del castello. Del sotterraneo volevo dire. Poi andando qui. Mi ritrovo appunto qui. Perché li volevo collegare. Perché ovviamente tutte queste farm. Anche questo magazzino rimarrà qui. Anche l'enchant. Anche se la voglio spostare lì per fare la torre. Almeno però adesso sfrutto questa stanza qui. E la volevo sistemare. Poi l'altro piccolo update. È da qui. Che bella vista mamma mia. È da qui. Appunto questa scala la volevo fare. Per collegarmi al castello. Solo che poi il castello è andato oltre. Quindi io arrivo qui. Poi vado qui. Poi vado qui. E chiudo. Ed è un piccolissimo passaggio segreto. Sembra una piccola grotta. Che non va da nessuna parte. Ma in realtà è un piccolo passaggio segreto. Quindi altri piccoli update. Sempre estetici. Sono questa parte qui. Che avevo fatto ma non avevo abbellito. Alla fine ho messo dei muretti. Degli alberi. Un po' immerso nella natura. Mi piace questa cosa di mettere tutto immerso nella natura. Qua ho fatto dei muretti così. Con un po' di luci. Perché avevo un grosso problema di mob. Qui ho allungato questa parte. Non so se vi ricordate o ve l'avevo fatta vedere. Questa zona qui era proprio piatta. Quindi ho fatto questa piccola pianura. E anche questa cosa qui. Che mi nasconde le luci. Fa luce però è nascosta. Qui invece a parte il buon villago go. Tanto ho la farm quindi. Non importa. Ho abbellito questo piccolo laghetto. Che alla fine era piatto. E non mi piaceva. Era veramente brutto. Si vedeva che era una cosa random o artificiale. E questo era tutto ragazzi. Continuerò a lavorarci. Perché ho ancora moltissime idee. Fixerò i vari problemi. Tipo questo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.